Sicuramente capisco anche le preoccupazioni, però questa giunta, soprattutto il mio assessorato, abbiamo fatto sempre le cose insieme, quindi è già programmata una riunione per lunedì, questa riunione si terrà, ci confronteremo e faremo le cose conseguentemente anche al confronto che avremo con i commercianti, con gli operatori del centro storico, quindi niente contro nessuno. E certamente noi vogliamo valorizzare quella parte di città, anzi pensiamo a un progetto unitario che ancora non è stato fatto, perché ovviamente facciamo un percorso partecipato parallelamente alla progettazione. Noi pensiamo che si debba costruire un progetto unitario che veda, protagonista in queste aree, l'ex distributore dell'Agip, via Cavour, piazza Costanzi, come progetto unitario per valorizzare quella parte di città, per aumentare e rendere più gradevole l'accesso al centro, quindi su questo siamo assolutamente d'accordo. Ovviamente servirà del tempo per fare la progettazione, per reperire i fondi, quindi non è una cosa immediata, nel frattempo abbiamo già avviato, avvieremo a breve, inizierà un confronto, un percorso partecipato, perché tutti si sentono protagonisti di questo cambiamento della città che noi comunque vogliamo fare e ovviamente vogliamo portare a termine, perché vogliamo valorizzare quella parte di città. Quindi pensiamo che possa alla fine portare un vantaggio per tutti. Per quanto riguarda la viabilità, per quanto riguarda la progettazione, quindi rassicuro, non c'è assolutamente niente, se ne parla da tantissimi anni, noi abbiamo intenzione di farlo con le persone che ci vivono, che ci abitano e che ci lavorano, quindi su questo senza fraintendimenti. Le integrità commerciali e economiche di quelle attività verranno salvaguardate? Il commercio per il centro storico di Fano è molto importante, quindi assolutamente non si vuole danneggiare nessuno, anzi si vuole aumentare la possibilità di apertura di negozi e magari rendere più bella la passeggiata in questi territori, insomma. Non c'è da parte nostra nessuna volontà di danneggiare i commercianti.